Puoi aprire qua? È una serratura a doppia combinazione. I miei libri dicono che molti idioti tengono la combinazione a non più di quattro metri. Speriamo di trovare uno di quegli idioti. Potrebbe essere questa. Perché ti piaceva tanto forzare serrature e decifrare codici? Se metti qualcuno in gabbia sviluppa un interesse per queste cose. Immagino di sì. E non mi farò rinchiudere ancora, bu. E non mi farò rinchiudere ancora. Elisabeth. Elisabeth, tu. Promettimelo. Io lo fermerò. No. È un giuramento che non puoi mantenere. Ma promettimi che se sarà necessario... Non gli permetterai di riportarmi indietro. Non arriveremo a quello. Ok?